Il Natale partenopeo si arricchisce di eventi dedicati soprattutto ai più piccoli, che domenica hanno trascorso una giornata di festa presso Villa Diamante in via Manzoni, a fargli visita anche il sindaco Luigi De Magistris, in uno scenario per l'occasione trasformato nel paese dei balocchi. Attività ludiche, laboratori, spettacoli e videoproiezioni hanno coinvolto i ragazzi in una magica atmosfera natalizia, resa ancora più suggestiva dal panorama offerto dalla villa. La manifestazione è stata anche occasione per presentare La Nostra Napoli, un progetto nato dalla collaborazione tra le scuole e l'assessorato all'istruzione del comune per dare voce ai bambini. I loro pensieri per la città, avvolti in pergamene, hanno addobbato l'albero dei desideri e sono stati presentati al sindaco De Magistris.